buongiorno e buona domenica delle palme allora oggi vi voglio presentare questo telefono arrivato tramite un venditore amazon allora come potete vedere arriva in questa scatolina molto molto resistente al suo interno troviamo questo proteggi schermo i due le due tovagliette per pulire lo schermo il libretto di istruzioni la presa a muro e più il suo caricatore allora il cellulare è previsto anche di una custodia trasparente il cellulare è previsto anche di una custodia trasparente che troviamo nella scatola il cellulare si accende qui qui ci sono le varie funzioni la sua telecamera da qui possiamo accedere a tutti le applicazioni che ho già ho inserito devo dire uno vero spettacolo a un buon prezzo sono soddisfatta dell'articolo vi consiglio il prodotto 5 stelle buona domenica a tutti